Ma per iniziare Zibido Robbio Un onore che è il solito prometto Ragazzi buongiorno a tutti Siamo nella tre partita di Zibido Robbio Siamo in curva oggi Oggi tre punti fondamentali Per uscire dalla mini crisi La squadra la vedo bene in campo Nuovi innesti insomma con l'inizio E ci sentiamo dopo per il post partita Ciao ciao ciao